A Borgamozzano, nella sua chiesa, ha fatto ritorno la Maddalena, la bellissima statua in terracotta in vetriata di Andrea della Robbia. L'opera d'arte, risalente alla seconda metà del 1400, è reduce da tre partecipazioni a mostre di grande prestigio. Un'opera che negli ultimi anni è stata valorizzata andando in mostra prima a Parigi, a Louvre, e poi anche a Milano al Castello Sforzesco, per una mostra sulle sculture italiane da Donatello a Michelangelo. E ora invece è di ritorno da una mostra sull'iconografia della Maddalena che si è svolta presso i musei di San Domenico a Forlì. La statua della Maddalena è stata trasportata da un'azienda specializzata in trasporto di opere d'arte sotto la supervisione dei funzionali della sovrintendenza di Lucca e Massa, Ilaria Boncompagni, Sara Micheli e Valentino Anselmi. Siamo qui a supervisionare l'operazione di riallestimento espositivo di questa importantissima opera che dopo aver girato un po' per l'Europa, un po' per l'Italia, venne di nuovo collocata in una nuova teca donata per l'occasione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ringraziamo insieme alla parrocchia di Borgo a Mozzano. Adesso è stata inserita nella sua nuova urna e posizionata in fondo alla navata di sinistra della chiesa di Borgo a Mozzano, molto ben illuminata e accessibile con facilità per tutti. In questi due anni di pellegrinaggio espositivo, la statua di Santa Maria Maddalena è stata anche restaurata grazie all'accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì che aveva organizzato gli ultimi due eventi dove l'opera è stata esposta. Soddisfatto dell'iniziativa anche il parroco Don Francesco Maccari e tutta la comunità borghigiana. Possedere, in fin dei conti, dei tesori che soltanto quando vengono in qualche maniera visitati, guardati, ammirati se ne acquista l'importanza e quindi una custodia preziosa nel proprio ambiente.